Il nuovo LASIC vuole tornare a giocare da terzino destro o magari sogna di tornare a fare il centrocampista per il Teramo? Ma no, io mi metto a disposizione del mister, mi piace pure il ruolo di terzino, quindi dove sarà bisogno lì giocherò. Se devo giocare da centrocampo, gioco centrocampo, se da terzino faccio terzino. È indifferente per me. In queste settimane in cui sei mancato, che teramo hai visto? Alcune partite abbiamo fatto meglio, alcune peggio. Contro la Ternana si è visto miglioramento rispetto alla partita di andata. Invece la partita scorsa secondo me abbiamo fatto un passo indietro. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, quelle di Ternana fino al settantesimo, secondo me. E non ripetere quel mese che abbiamo visto a dicembre. Sicuramente dobbiamo fare questo ultimo mese, dobbiamo fare bene più punti possibili per arrivare in una posizione nel playoff più alta possibile. Ho fatto tante partite, nel senso anche in B, anche altri campionati. Quindi penso la mia esperienza può aiutare alla squadra, nei momenti difficili durante la partita. La squadra Vibonese fa tanti pareggi, come vedete. Non sarà una partita facile secondo me. Però siamo in grado di vincerla sicuramente se facciamo quello che dobbiamo. Non ne ho dubbi di questo. Dobbiamo affrontarla nel modo giusto però. Dobbiamo affrontarla nel tempo.